non so come introdurre questa recensione puntata 67 di dragon ball super disegni un po così così cosa è successo trunks ha effettivamente sconfitto zamasu con il potere di tutti i terrestri ma quanto pare il kaioshin aveva un piano di riserva perduto il corpo fisico la sua anima si espande coprendo tutto il pianeta terra poi l'universo e anche le altre linee temporali trunks goku e vegeta tentano un ultimo disperato attacco per sconfiggere la divinità sparano una kamehameha un gallic gun e un final flash che si uniscono diventando un unico raggio di energia fighissimo momento molto fan service e molto mi piacciato ma niente zamasu è troppo forte e inizia a sparare dei raggi rossi sulla terra uccidendo tutti gli altri i protagonisti riescono a difendersi ma sulla terra non è rimasto più nessuno zamasu ha vinto goku cerca un senso nella tuta ma trova il pulsante per richiamare zenu sama di cui ovviamente si era dimenticato perché in dragon ball super goku deve fare la figura del deficiente ve lo ricordate lo preme ed evoca la suprema divinità del mondo di dragon ball si presentano brevemente goku spiega al dio ultimo che la devastazione che lui circonda è causata da zamasu la creatura che sta nel cielo zenu lo trova irritante e decide di distruggere l'intero universo fuggi fuggi generale dei protagonisti che si ritrovano nel tempo di goku arrivano anche birce e wiss gowasu si scusa con il dio della distruzione per tutti i danni che il suo discepolo ha causato goku e trunks usano la macchina del tempo per tornare nel tempo di trunks che ormai è completamente vuoto recuperano lo zen o del futuro e lo portano dallo zen o del passato ecco una cosa molto intelligente da parte di goku ma ovviamente fatta un po a caso l'idea dei due zen o che possono giocare fra loro come gemellini piace molto al dai shinkan wiss spiega che è stata un'idea di goku e dai shinkan appare genuinamente invidioso dell'universo 7 e sgancia la bomba della puntata quel nanetto blu è il padre di wiss maledetti siano i giapponesi e i loro contrasti del cazzo wiss suggerisce a trunks di usare la macchina del tempo e andare in una linea temporale simile alla sua poco prima che avvengano gli attacchi di zamasu poi ci penserà lui a discutere con il dio della distruzione del futuro per mettere a posto lo zamasu del futuro a quanto pare wiss aveva un metodo più efficace della mafuba per fermare zamasu ma hey non dovete contare troppo sugli dei anche se siamo sempre in mezzo a casa vostra ovviamente l'angelo bacchetta anche birs che ha creato la linea temporale di black goku quando ha ucciso zamasu rimane il problema di trunks e mai perché dovrebbero andare a vivere in un mondo in cui non avranno mai il ruolo che gli spetta visto che esisterebbero già un altro trunks e un'altra mai alla fine accettano le conseguenze e si preparano a viaggiare birs perdona trunks per i suoi viaggi nel tempo e trunks si inchina in segno di ringraziamento gowasu è pentito di tutto quello che è accaduto e per l'ultima volta chiama il nome del suo discepolo zamasu goku rassicura trunks dicendogli che è diventato molto più forte bulma gli regala delle capsule ed è invidiosa della se stessa del futuro perché vedrà per prima dei nipotini momento imbarazzante vegeta aspetta suo figlio e per salutarlo si lancia in un attacco verso trunks uga buka io principe scimmia io non sapere parlare io dare solo cazzotti uga buka in realtà è un bel momento padre figlio vegeta non è mai stato un tipo di troppe parole e ricorda tantissimo il primo addio che si dietro già in dragon bull z trunks e mai partono per trovare una linea temporale adatta alle loro esigenze mentre arrivano all'ultimo minuto gohan è piccolo trunks ricorda gli anni passati con il suo maestro e la promessa di difendere la terra al suo posto pentito di aver mancato alla parola data scoppia in lacrime gohan però lo rinfranca e trunks si riprende ringrazia tutti i suoi amici per averlo aiutato e si dirige verso un nuovo tempo e noi come go quegli altri restiamo in attesa del suo ritorno ok ma che cazzo sta succedendo sul serio sono tutti così sereni e tranquilli dopo che per colpa loro l'umanità intera si è estinta cazzo ma dico io non potevano lasciare il finale della puntata precedente era così chiaro semplice diverso dal solito dragon ball sì ma che ancora conservava un senso di speranza una bella morale ora sapete cosa dovrei fare prende la recensione di settimana scorsa e cacarci sopra perché è questo che ha fatto la toei ha cacato sulle mie aspettative però permettetemi canale mio merda mia zamassio è andato in full gigas e è diventato imbattibile mi sta bene che questa serie non sia più il dragon ball che conoscevo ma qui siamo a un livello di depressione altissimo non solo il male ha vinto ma l'unico modo che hanno per risolvere tutto il casino che hanno combinato è distruggere tutto ancora di più il bellissimo messaggio di amore e solidarietà di settimana scorsa viene cancellato per dare spazio al nichilismo più assoluto allora bambini cosa abbiamo imparato dalla puntata di questa settimana abbiamo imparato che l'uomo non può interferire con il volere divino e se lo fa se lo fa e ne paga un caro prezzo molto bene quindi dal peccato non può nascere la speranza e questo significa che finora Goku e company hanno soltanto incontrato divinità accomodanti cosa sarebbe successo se invece avessero incontrato delle divinità inamovibili anche parecchio incazzose quelle divinità avrebbero creato dragon ball super fra l'altro la notte della trasmissione ho provato a salvarvi da questo finale di merda con i miei potenti attacchi hacker a tutte le pagine streaming ma voi volevate vederlo per forza ecco qua siamo un po' abituati al fatto che le conseguenze in dragon ball quasi non ci siano perché ehi ci sono le sfera del drago per risolvere tutto ma in questo modo è davvero tremendo si accontentano di aver salvato la pellaccia anche se per farlo hanno dovuto cancellare dall'esistenza un intero universo alternativo sì certo black Goku e Zamasu avevano ucciso tutti gli dèi e ormai c'era ben poco da regolare in questo mondo però che cazzo ma state tranquilli perché nelle prossime settimane ci sono tante puntate filler molto molto divertenti come arale contro goku yancha torna a giocare a baseball krillin ha una scappatella con maron e 18 vuole il divorzio maron quella con i capelli blu non non la fig non si tratta di incesto non è vero l'ultima me la sono inventata che bello dragon ball super